Ah, buona garanti amici e benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Florida, io sono Archicco e questo è New Beginning Final Cut e siamo qua col professor Svensson, Bent Svensson, scusate se parlo in malo modo ma ho il naso completamente tappato e penso che mi sto prendendo l'influenza, anzi probabilmente l'ho già presa se non l'ho già quasi presa, quindi vogliate scusarmi se la mia voce vi arriva un po' così, un po' nasale. Allora, siamo qui su questo gioco dopo un casino di tempo, per la gioia di pochi, perché vedo che questo è stato un gioco proprio non molto seguito, però ragazzi a me i punte clic che piacciono e quindi volevo almeno finirlo e poi l'altra cosa appunto che vorrei portare a termine i giochi che ho iniziato anni fa e insomma e dargli una fine. Allora, vediamo qua cosa abbiamo, qua c'è una lametta, allora innanzitutto cosa abbiamo qua dentro? una rete di plastica, a che cazzo ci serve una rete? Archivio, allora ispezioniamo eccetera eccetera ok, allora esamina ok, allora, chiudi scusate aiuto, allora, qua che cazzo c'è il tampone i medici e le loro carte, il tampone per timbri può essere importante come un bisturi questo è un vecchio computer letto adesso c'è del giordo ok, vediamo se c'è qualcos'altro da toccare c'è una matita, ma queste cose non si possono prendere, forse vediamo un po' se... ecco il cassetto, apriamo o i campioni di sangue, prendiamone qualcuno eh, se lo stai rubando vuol dire che si servirà a qualcosa ok, quindi questo ho disegnato qua c'è una casa con una finestra che sta... ci sta uscendo del fuoco dalla casa minchia, inquietante eh, la tenda vediamo un po' se possiamo parlare ho bisogno di un certificato stampato, o Barney non mi lascia attendere la presentazione una provetta, bene, quindi potremmo andare a fare magari un giro fuori vediamo un po' cosa... oh la madonna dove c'è il tuo compagnia? lei sarà un po' di tempo è troppo male, la presentazione è quasi finita hai il certificato di sangue? non posso andare in a fare il certificato di sangue? beh, Dr. Svensson, mia responsabilità è di seguire le regolazioni, non le rendere dalle nazione eh, eh quali sono le nostre possibilità di trovare un investito? sono buoni, diciamo, abbiamo fatto un'impressione hai dimostrato le dimostrato alle labi? no, ma abbiamo avuto un fantastico brunch con un salmone, da l'Atlantica sì, lo so, lo so, lo so, lo so l'acqua del sangue, un'attrofissi il problema è che non possiamo fare un'attrofissi oggi nessuno vuole fare un'attrofissi con un giro fuori ma siamo un giro fuori noi siamo un giro fuori con un salmone da l'Atlantica l'attrofissi con un'attrofissi eee Barney, non possiamo vendere i nostri ideali non sei naiif, Bent, abbiamo bisogno di l'argento perciò che dovremmo fare un'attrofissi tutto in me resiste questa idea questa è la differenza tra te e me tu vuoi fare un'attrofissi e io faccio il lavoro che sta in tua finanza finanziaria e a volte non c'è nessun ruolo per la tua mentalità sì, lo so, lo so ok, allora l'unica roba torno subito ok, da qua non si può passare quindi bisogna per forza a questo punto il certificato è questo porca putta che cazzo è il certificato oh, prendiamo il certificato medico e andiamo forse ho capito ragazzuoli bisogna allora forse ho capito bisogna usare il sangue sul tampone eh, una misura drastica ma il... eh, vabbè andiamo e andiamo oh, oh vabbè, niente non c'è vediamo un po' se... ma capro ma ha funzionato ok, adesso c'è il timbro ragazzi e possiamo andare finalmente a... perfetto ok, quindi adesso ci troviamo in bagno no, ah no, siamo alla conferenza alla conferenzi c'è anche un petroliere uno sceicco is why on earth we came here what miraculous technology are you talking about when you claim to be able to solve all this planet's problems in one stroke thank you for the queue, Mr. Indes I am talking about a technology that doesn't produce emissions one that can be replicated easily and that can be grown in every household it is effective enough to... um... eh, eccolo qua il band il band your miracle plant will grow in every consumer's garden? um... yes the magic word is reproduction a small installation that will fit on every balcony will provide enough energy for the household it is an autonomous and ecological energy the process is called nitrogenase it means hydrogenase um... the process is called hydrogenase which means that cyanobacteria will convert light air and water into high energy oxygen the degree of efficiency of the energy output yields values around 0.08% what? that's wrong it's 0.8% do you want to give the lecture, father? I... um... maybe we can cut this embarrassing family drama short the question I ask myself is what kind of business model do you have to model? if people grow algae on their balcony like chives what do we sell them? no one here wants to give away energy for free, right? yes no the consumer needs the technology to to grow the algae and dissipate the hydrogen fuel cells for conversion must be bought and maintained but um... well that's all there is to say on the business aspect of our presentation I suggest we take a short break afterwards we can jump right in with the calculations I would like to see this bacteria in action or that? after the break we will present the blue green algae and then we will talk about the calculations we will reconvene at 2 o'clock sharp thank you ehhh via fuori dai coglioni tutti allora in più suo padre si presenta un po' sotto pressione I should not blame himself he did well I am more worried about this Indes Emilio Indes is a businessman he needs to ask these kinds of questions no my gut tells me that he's planning something and I won't leave this room before I found out exactly what it is allora Indes era quello che avevamo incontrato un bel po' di tempo fa quando ho giocato l'ultima partita quello della conferenza insomma che siamo andati a sabotare ok allora vediamo un attimo che è quello tra l'altro che vorrebbe invece avere la centrale nucleare in mezzo alla foresta insomma allora vediamo un po' cosa c'è degli snack e prendiamo anche degli snack acquasnack beh un po' triste magari era meglio se c'era un so un crodino al posto dell'acqua vediamo qua se c'è qualcosa questi sono fogliettini no apri che pensi cosa pensi di presentazione signor Indes? pensi che questa bluograve è una buona investimento? questo questo non potrei 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 una buona che un problema è una buona una buona nella una buona un po' una buona una buona una buona una buona che piegata Eh, eh, ha abbassato la voce, il nido. Calma, vediamo un po' se diciamo... Eh, origlia. Eh, sti cazzo, allora bisogna fare un'altra... Allora, probabilmente bisogna... Ah, la finestra! Ragazzi, ho beccato. Bisogna aprire la finestrina, vediamo un po'. Ok, leva, tira. Ah, ok. Eh, però non si sente un cazzo, è lo stesso. Porca miseria. Ma parliamo col tipo. Allora, vediamo un po' se c'è... Ustia, un apri bottiglie, eh... Vediamo se c'è qualcosa ancora da fare. Qua non c'è niente, no. Alla bottiglia d'acqua l'abbiamo presa. La bacchetta? Prendiamo anche la bacchetta. La bacchetta magica, eccolo lì. Questo tasto? Prendiamo il tasto. Forse bisogna fare qualcosa più tardi. Allora. Vediamo un po'. Magari gli uccellini, se gli diamo qualcosa... Forse vogliono l'acqua. Vediamo cosa abbiamo. Ah, forse gli snack dobbiamo dargli i pistacchi. Pistacchi? I pistacchi? Oh, così faccio. Bene, forse possiamo andare ad origliare. Uccelli del cazzo. Origlia. Mr. Indes, porremmo non tornavi. Siamo being watched. Questi norwegiani. Impossibile. Ma porca miseria, cazzo... Eh, allora che cazzo bisogna fare? Porcaccia miseria. Allora. Usti, chiudiamo la tenda. Ah, ecco. Bisogna... Ah, è il bottone della tenda. Waffanbuck. Vediamo un po' se forse con la bacchetta sulla tenda... Ah, sul blocco. Eh, non so, tiragli... L'apri bottiglie. Non ci arrivo. Allora montiamo. Eh, ma dai, sono un... Ho montato l'apri bottiglie sulla bacchetta. E adesso... La pietra filosofa. Andiamo. E andiamo. No, aspetta. Magari meno. Eh, va bene, ho capito. Stai calmo. Stai calmino. Stai calmino. Attenda, chiudi. Vediamo. E adesso... Orilliamo. Sì. 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 And what do you plan to do about it? What every good businessman would do? I'm going to buy it. I will put one specimen on my ship. And I'll dump the rest into the ocean. That's where LG belong, after all. Bon voyage, Dr. Swenson. Arrivederci, Echo Power. Arrivederci, arrivederci. Come adesso... Un prezzo stracciato. Che maiale! Ecco, vediamo un po'. Live della nostra tecnologia. Siamo in live, anche qua. Partito da live. Qua continuano a parlare e vabbè. Eh, lascia fare, va. Allora. Eh, che cazzo bisogna fare? Lampadina. Generatore. Eh, vabbè. Eh, ho capito. Eh, eh, prendi il peso. Ok. Eh, spostiamo il carrello. Eh, che cazzo bisogna fare? Ah, ok, buona, perché l'alga deve... Perfetto, quindi, dobbiamo mettere dell'acqua... Rinfreschiamo un po' l'alga, perfetto. Bravo! Non vedete il genio in questa performance? L'unica cosa che vedo è il slime in un tank di pesce. Dr. Svensson, da che nessuno sembra interessato in questo, vorrei comprare il slime. Stop, solo un secondo, ho scoperto qualcosa. La presentazione è finita. Ehm, sono davvero impaziente, vediamo un po'. Ok, allora, metterò la batteria nella rete e poi nel generatore. Se questo funziona, credo che ogni parola che Faye ha detto. Bella! Oh, amico. Che... che hai fatto? Eh... Ehm... Cosa ho chiesto? E' stato il nitrogenase che stavi parlando? Chi pensavo che il 0,8% possa essere quello esplosivo? Dr. Svensson, perché ci hai dato un monologo non finito su energia di vento invece di mostrare questo proprio dal comune? Non lo so. Perfetto il mio padre. L'espresso non è l'espresso qui. Ehm... Oh, gli abbiamo fatti ricredere. Chi di voi riceve i nostri soldi? Ma sono il lordo, ovviamente. Minimo. Vi attacco, tutti riranno. Delvin, cosa stai parlando? Cosa attacca? Eh... Lal... Ind... Crap! C'è qualcosa con l'antenna. Pensavo che Augie voleva installarlo sul helicopter. Oh no! Ho spero che non lo rompia. Mi piacerebbe andare a cercare. Oh micchia! Allora... Aspettate un attimo. Finestra. Eh... Ma che figata che si illumina. Allora, aspettate un attimo. Apri. Apriamo il finestrone. Ah, ok. Da qua si esce. Ma dove cazzo siamo? In un container? Eh... Vabbè. Ragazzi. Allora, la porta. Allora, iniziamo un attimo a vedere cosa c'è da prendere nella stanza prima di uscire dalla finestra. No! Dai! Che figata! Beauty case! Ispezioniamo. Smalto, mascara, rossetto. Allora, cabina, doccia. Esaminiamo. Allora, eh... Mi sa che qua... Il cassettone... Bah, mi sa che qua non c'è... Eh, vabbè. Esaminiamo tutto, ma... Niente. Qui non c'è un cazzo. Qui neanche... Vabbè, proviamo ad uscire. Oh, beh. At least they already get used to life in a bunker this way. Niente, qui non c'è un cazzo. Qui neanche... Vabbè, proviamo ad uscire. Il letto penso che non sia utile in questo caso. Ok. Ok. La porta, qui. Che figlio nuovo ordine. Ah, ma quindi siamo dentro una specie di container? Cioè... La, la... Ma non ci credo che la... La famosa assemblee è stata fatta dentro un container. Allora, aspettate un attimo. Quindi, una volta qua... Eh... Che cazzo bisogna fare? Scusate... Scusate, ma qua non si può andare... Ah, ok! Al piano centrale... C'era il barbatruccolo. Allora... Allora... Eh... Vediamo un attimo. Proviamo... Ah, eccolo lì. Allora... Oh... Hey, Lou. Hang on in there, ok? Oh, hey ho! What can I do for you? Are you a radio operator? Yep. Wait... You came here with Ben Svensson, didn't you? Yes. Why? Are you related or something? Is he your uncle? Mmm... Why do you ask? Oh... Just... You know... Niente... Qui non c'è... Non c'è niente di cui parlare. Allora, andiamo a parlare con Oggy, va. Eh, niente... Mi sa che... Mi sa che l'an... Eh, certo! Proprio uguale a come te l'avevo spiegata. Vediamo un po'... Eh, cazzo, siamo su una stazione e un'antenna. Ok... 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 Eh... 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 See you later! Yep, yep! Ok... Penso che non ci sia nient'altro da dirgli... Ah, ok, l'altro probabilmente bisogno, no, scusa, eh, eh, ah, ok, bisogna, ecco, forse collegarla qua, eh, vabbè, antenna, colleghiamola all'antenna, eh, eh, che, che cazzo, il cavo è troppo corto, ha fatto di dare un cavo più lungo, minchia, eh, allora, oh, vediamo un po', se c'è qualcosa qua, oh, c'è un cavo più lungo, eh, andiamo, mettiamo il cavo col cavo, ma te comincia a saldare, scusa, ma adesso, dopo cercheremo un altro cavo, ma adesso sta roba qua, ma che cazzo, eh, questa non è niente, quant'è una radio temporale, vabbè, allora, scusa, questa è una lima, eh, il radiotrasmettitore temporale è quello che, eh, ho capito, cazzo, allora, probabilmente bisogna usare il cavo, forse sull'antenna, vediamo un po', però almeno attaccato, vediamo se il buon uomo qui ha, scusate. Sì, che si, per te, non, sei perché? Che, per te, non, sei perché si, per te, non, sei per te. Oh, sei, bare, sto chiamando, beh, di poroi, perché stiamo uno stiamo stupendo. Sì, potresti rispondere a mia domanda? Sì, come questa è la mia domanda? Come si, a te, non sono chiusi? Siamo sulla piattaforma petrolifera Ma che due coglioni sto qua Minchia te lo porto io il caffè Vabbè niente questo proprio non mola l'osso come si vuol dire Allora mi sa che questo ha bisogno di un caffè Probabilmente bisogna andare in caffetteria Nella famosa Oh eccola qua la caffetteria Vediamo un po' E lo portiamo a noi il caffè Visto che è pigro guardate il lord Gli porta il caffè Solo per questa volta Solo perché mi sta simpatico Allora Vabbè esaminare il microonde Allora parliamo col cuoco Cosa vuole No vorrei la torta di miele perché Rockfisk suona male Mi piacerebbe assaggiare questo ma sì Ecco prendiamo anche il Rockfisk così Ma è già tutto precotto Cioè così Allora la torta è fredda Madonna scatarra anche Allora Ci sono tutti impazziti Su questa piattaforma ragazzi Io ci avrei paura Buona adesso Ma cos'è la torta è ancora fredda Ma forse bisogna fargli mettere dentro qualcosa Aspetta un attimo Aspettate un attimo Allora Vabbè proviamo Adesso è bella calda La vediamo Ma è un pirla Vabbè Va affanculo Madonna Sta morendo male Sto camminando Se c'è qualcosa da ci appare Non c'è nulla Quindi Mi sa che qua abbiamo finito E niente Caffè ragazzi Mi sa che il caffè Se lo può Niente Andiamo a vedere Se gli piace La torta di mele Oh che culo Abbiamo anche beccato Che il rackfisk È il suo piatto preferito Davanti alla fame Si smette anche di parlare Eh ho capito Ma non dobbiamo mica entrare lì Ma porca Puttana Vabbè Allora Forse adesso Si può Collegare Il cavo All'antenna Allora Attaccatela All'altro Cavo Collega Al cavo Allora 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 Vattene Affanculo Cazzo Ma Ascrivete Allora Dove cazzo Devo attaccare Parte bassa Della ringhiera Aspettate Aspettate Eh sì Perché Eh sì Perché così Porta il segnale Sulla ringhiera Praticamente La ringhiera Di ferro Fa Da Conduttore Dai dai Ho già capito Oh Adesso Proviamo a parlare Con Augie Oh hey Come va? Che posso fare per te? Niente Non ha più niente Allora Forse bisogna Usare il Devo sincronizzare Il radio Transmitter Con l'antenna Nel helicopter Allora Eh vabbè Allora Vattene Controlla Forse l'antenna Qua va Vediamo un po' No Mi sa Che non è così Non funziona Proprio così Porca puttana Qui non dà più il cavo Qui non si può salire Questa è la Ma E che è l'antenna Fia Eh Adè Ma No Allora usa questa Ma non lo so io Eh Allora Ci deve essere Qualcos'altro Che interferisce Col segnale Che cazzo Può essere Il tipo che Che mangia O forse Lui seduto Non riesco a capire Vediamo un po' Se magari è lui Che ancora Stagli a Trafficare No No Non è lui E non ci dirà Nient'altro Quindi Ragazzuoli A questo punto Non saprei Forse c'è qualcosa Da andare a fare Giù 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 qua Aspettate Forse Vi ricordate Che bisognava uscire Si poteva uscire Dalla finestra Forse bisogna uscire Dalla finestra Vediamo un po' Allora Allora In bagno C'era qualcosa Di utile Beauty case Nel polis Mascara E E E E E E E E E Vabbè Niente Ah ma tra l'altro La beauty case Abbiamo già raccolto La lima Niente Quindi Apostoli Vediamo un po' Allora Mi sa che A parte vedere Il panorama Non c'è un cazzo Da fare Gli uccelli Sono scappati E E E Noi che magari Bisogna mettere La torta di miele Da qualche parte Qua No Niente E Vediamo un attimo Forse Andiamo ancora un attimo In caffetteria Aspettate 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 Eh Già capito Già capito Dai Eh allora Chiediamo io A lui Adesso scaldiamo La lima Così dovrebbe esplodere Il microonde Eh Il microonde Si è bruciato Ecco cosa interferiva Allora Era il microonde Che interferiva Col segnale Le onde Del microonde Eh E adesso Secondo me Dovremmo riuscire A It has to work now Attention Attention Radio operator Faye speaking Delvin Can you hear me Please Don't deserve me now Please 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 Hello Faye Sadi Sadi Che cazzo è Sadi There I am And glad our Presentation could Convinci you I have to admit In result Surprised me A little as well Then it was a One Sadi Allora si è vero Tutti noi Vedi I can assure you Doctor That you were utterly Convincing Please dear We must not Hasten Our decision Not until We've tested The bacteria Ourself Perciò proponso che il docetore ci farà un'esplice di un'esplice di un'alliazionale in più pronto possibile. E se tutto ciò che è sotto l'esplice, come sono sicuro che ci sarà, scienziati indipendenti non hanno problemi ricostruendo il risultato che abbiamo visto prima. E quando lo facciamo, noi ci aiutiamo. O, c'è un problema? Mi dame un po'. Sì, un problema meno, ma ora a te. Tu sei completamente fuori, cosa succede? Mi chiede un call from Delvin. E? La connessione era terribile, ma credo che ci voleva warnare. C'è qualcuno si tratta di attaccare l'olio rig. Sei sicura? Non completamente, ma è che si tratta di così. L'ho te ha detto qualcosa di altro? No, è tutto. Hai ricevuto altri messaggi? Non mi stai nascondendo. Ma chi era quella Davi, quella... Sadi. Sì. Abbiamo un altro problema, non mi sembra. Alguien ha cercato di sabotare la presentazione. Cosa? Perché qualcuno ha fatto questo? Non ho capito. Ma hanno fatto tutto per evitare il generatore di lavorare proprio durante la presentazione. La alga era molto semplice di normale. E ancora, gli investitori sono convinti? Sì. Non è stato così un problema. Mi ha fatto solo qualcuno prendere un spessimino migliore. Ehm, credo che dovresti cercare di trovare più di questo attaccare, mentre io investigo l'olio rig. Ok, sembra sensibili. Sei veramente non guarda qualcosa da me? No. Tu? Non. Allora, ci vediamo dopo. Allora, andiamo! Ok. Sadi, venite, porre. Ben dice che gli investitori sono convinti. Tu dovresti essere vero. Eh, questa Sadi non gliel'ha detto, però. Cos'è? Boa abitativa MSL. Ah, ok. Vabbè ragazzuoli, direi che adesso che siamo nella loro casa, al loro laboratorio, qua sulla piattaforma, direi che ci possiamo salutare. Ehm, spero che questo gioco continui a suscitare in voi interesse, e che io possa portarlo poi alla fine. Ehm, anche perché non so quanto manca, ma non credo manchi poco, nel senso che lo vedo abbastanza lunghettino ancora come gioco. Quindi, niente ragazzuoli, noi ci troviamo sempre qui su Sosoford, con nuovi gameplay, con nuove live, restate come sempre sintonizzati e... Awanagana! Ciao!